Niente più linea ferroviaria Cremona-Piacenza. Da lunedì non transiteranno più i quattro treni di questa tratta, che saranno sostituiti da autobus. E ovviamente i tempi si allungheranno ancora, perché saranno necessari circa 20 minuti in più rispetto all'attuale tabella di marcia. Le corse delle 5.32 e delle 7.12 da Cremona a Piacenza e quelle delle 6.34 e 7.59 da Piacenza a Cremona sopravviveranno ancora per due giorni. Quindi, secondo Trenitalia e la regione Emilia-Romagna, gli utenti, circa 700 persone su tutta la linea in un mese, sono troppo pochi per coprire i costi di gestione. E così si è arrivati alla decisione di cancellare la linea, scatenando le furie dei sindaci di Castelvetro, Monticelli, Dongine e Caorso, i comuni in cui il treno fa le sue fermate. Noi siamo venuti al ponte di Po, eccolo peraltro poco visibile con la nebbia di questi giorni. A questo punto però il ponte ferroviario, nella sua nuova versione inaugurata, peraltro anche recentemente, era il 1990, sarà praticamente inutile, quasi inutile, perché di fatto da qui transiteranno soltanto i convogli della linea Cremona-Fidenza e quindi di fatto la città di Cremona resterà ancora più isolata. Già, perché pare sempre più concreta l'ipotesi che Piacenza realizzi una metropolitana leggera che colleghi la città con Milano. È un progetto di cui, a dire il vero, si discute da dieci anni, ma che ha ormai preso forma con le autorità piacentine che si sono messe in prima linea per trovare una soluzione al problema dei pendolari. Il sindaco e il presidente della provincia di Piacenza hanno già incontrato la regione Lombardia per chiedere la realizzazione della linea entro Expo 2015. I collegamenti sarebbero velocissimi, ogni mezz'ora tra Piacenza e Milano, e anche i pendolari cremonesi avrebbero potuto trovare l'alternativa per i loro viaggi verso il capoluogo Lombardo. Con la suppressione della linea che collega la nostra città a Piacenza, però, gli utenti vedono sfumare anche questa possibilità, ammesso che non si voglia raggiungere Piacenza in autobus.